Amici di Lucania TV.it, un cordiale saluto da Pino Carnomagno, vi avevamo promesso degli aggiornamenti in questi giorni sul pauroso ingendio che c'è stato l'altra sera e l'altra notte poi a Praia Mare e siamo qui per aggiornarvi, una delle poche se non l'unica emittente digitale che è andata a riprendere le immagini e a fare il servizio che poi avete visto sul vostro PC, merito anche di Gianbrango Di Bella naturalmente e di tutta Lucania TV.it. Com'è la situazione mentre vi parliamo? Abbastanza stagnante, c'è qualche altro piccolo credo focolaio, ieri mattina vi abbiamo proposto l'intervista al rettore del santuario della Madonna della Grotta di Praia, vi ricordate che cosa è accaduto? Il fuoco è arrivato fino vicino al santuario, lo ha quasi circondato, alcuni volontari con i sacerdoti di cui vi parlavo sono andati a prendere l'effigie della Madonna della Grotta, la Vergine Assunta che se non vado errato, Gianbrango Correggimi è anche la protettrice di Praia e c'è una grande festa, adesso non lo so che accadrà quest'anno, c'è una grande festa il giorno dell'Assunta però dopo quello che è accaduto poi seguiremo anche questa vicenda e vi informeremo se quest'anno la festa ci sarà o meno, ma penso di sì, la festa religiosa naturalmente comunque ci deve essere. Questa effigie è stata portata in salvo, ripeto, dai sacerdoti e dai volontari portati in un luogo più sicuro perché la paura era tanda, vi raccontavo dell'esplosione di un baio di bombole, di un'auto addirittura, scene apocalittiche, scene da film di fantascienza ma comunque purtroppo tutte vere. Allora ieri mattina vi dicevo, abbiamo ascoltato il rettore, oggi ascoltiamo il parroco del santuario della Madonna della Grotta, Don Vrango Leporace e vediamo cosa ha detto ai microfoni di Lucania TV.it. Sì, certamente questa notte è stata una notte che i praiesi non dimenticheranno facilmente, bruttissima perché le fiamme hanno interessato come tutti sappiamo, tutta la costa, tutta la zona qui di Tortora, di Praia, insomma siamo stati tutti molto preoccupati principalmente per la salute delle persone, per le attività che si trovavano nella zona interessata dalle fiamme, per le case. Io a un certo punto dopo mezzanotte quando ho visto che le fiamme scendevano e si avvicinavano verso il costone del Vingiolo, soprattutto vicino al santuario, ci siamo sentiti subito telefonicamente con il rettore Don Franco Laurito che prontamente era già qui, è arrivato e sono salito subito sul santuario, c'erano diversi volontari, ragazzi e abbiamo pensato con lui subito di prelevare subito l'immagine tanto cara della nostra Madonnina, della Madonna della Grotta e di portarla giù nella chiesa parrocchiale insieme alla statua del Lecce Omo, insieme ad alcune suppellette che il rettore ha ritenuto giusto prendere subito perché la paura era che sicuramente qualche scintilla, visto il vento forte che c'era, potesse avvicinarsi, potesse portare fuoco sul tetto del santuario, comunque le fiamme si stavano avvicinando, quindi è stata una scena emozionante ma nello stesso tempo molto dolorosa, fortissima, vedere proprio con l'immagine di quei ragazzi che insieme al rettore, con me abbiamo proprio abbracciato l'immagine della Madonna e l'abbiamo portata giù, questa era la cosa più cara, subito il primo pensiero è stato andare al cuore della nostra comunità che è un'immagine così cara della Madonna della Grotta, è stata custodita qui nella chiesa parrocchiale tutta questa notte e poi nella tarda mattinata il rettore ha provveduto a riportarla su nel suo luogo naturale, nella cappellina, su al santuario, nella grotta, insieme a tutte le altre cose. Certamente mi date l'occasione attraverso questa piccola intervista di esprimere da parte mia, penso di interpretare i sentimenti anche di tutti i miei confratelli, di esprimere da parte mia, da parte di tutta la comunità, solidarietà, vicinanza, tutte quelle persone che ancora forse stanno molto soffrendo per i danni, per la paura che c'è stata, alla salute delle persone, alle attività, penso a tutta la zona del Pian delle Vigne, alla zona del Pantano, alla zona del Vingiolo, anche del Fortino, sicuramente altre zone dove sentivo, persone anche che telefonavano, persone che scappavano dalle loro case, persone in preda al panico, alla paura, quindi anche offrire come sempre la mia vicinanza, la nostra disponibilità, quella della comunità, magari non lo possiamo fare direttamente, personalmente, subito, un momento particolare, ma magari attraverso queste parole far giungere a tutti quel sostegno, quella vicinanza e anche la disponibilità, mettere in atto quello che è possibile, nella solidarietà, perché in questi momenti, come in momenti anche difficili che abbiamo vissuto e che conosciamo, anche che vivono spesso i nostri ambienti, il segno più bello, penso non tanto a parole, sia quello di sentire da parte del sacerdote, da parte della comunità, quell'attenzione a quelle difficoltà che si vivono, quella vicinanza è quel cercare anche insieme a tutti di porre dei segni, per ricostruire, che non è facile, danni immensi, certamente, e penso non ci siano parole, così come sento da parte di tutti per esprimere l'indignazione per tanto male che si fa al creato, mi viene proprio in mente quell'enciclica di Papa Francesco, laudato sì, sulla cura del creato, questi segni nefasti, orribili ci devono far riflettere su quell'educazione, al rispetto dell'ambiente, al creato che tutti dobbiamo avere. Bene, questa era una parte della intervista a Don Franco Lipporace, parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Praia Mare, avete visto e soprattutto sentito con quanta pacatezza Don Vrango parla di quello che è accaduto, con quanta emozione, senza urlare, senza prendersela con questo o quello, a un certo momento avete sentito, ha nominato l'enciclica Laudato sì, dedicata all'ambiente, l'enciclica papale e gli abbiamo chiesto, allora, difendere l'ambiente, proteggerlo, perché a questo punto l'uomo è così cattivo, per usare un eufemismo, verso l'ambiente, perché ci sono questi tipi di persone che rovinano e distruggono l'ambiente e purtroppo a volte anche gli abitanti che vivono nell'ambiente? Ascoltate cosa ci ha risposto. Penso che l'educazione principale sia l'educazione delle coscienze, l'educazione delle persone, il rispetto verso se stessi, il rispetto verso l'altro e l'altro e soprattutto come direbbe San Francesco, sorella terra, il creato che è dono di Dio, che è la nostra casa comune, l'ambiente in cui viviamo, penso che queste cose possano soltanto trovare spiegazione nel fatto che manchi in tante persone, alcune persone, proprio questa consapevolezza di rispetto proprio verso se stessi, verso il proprio ambiente, verso le persone, è un'educazione profonda delle coscienze, è un'educazione profonda di chi purtroppo arriva a compiere gesti così abominevoli, forse neanche si pensa al disastro, al male che si procura, che si fa a se stessi, roviniamo, creiamo l'inferno, roviniamo la nostra stessa vita. Abbiamo ascoltato anche la risposta di Don Branco su perché l'uomo ce l'ha a volte con l'ambiente e distrugge l'ambiente, poi ritorniamo al discorso con cui ho iniziato questo mio aggiornamento della mattina con voi qui su lucania.tv.it, io parlavo della festa, eventualmente ci sarà il 15 agosto, vi ripeto la Madonna del Soccorso, la Vergine Assunta e la Santa Protrettrice di Praia, venerata e festeggiata ogni anno il giorno di Ferragosto e praticamente, adesso lo sentirete, dà una risposta a quella domanda che mi ero posta all'inizio di questo nostro breve incontro, oltre a chiedere anche a Don Branco eventuali danni pesanti che ci sono stati nel santuario. Allora ascoltiamo questo ultimo momento dell'intervista. Da quello che abbiamo constatato, abbiamo visto, da quanto mi diceva il rettore, sembra che il fuoco abbia costeggiato il santuario, quindi le fiamme non si sono avvicinate. Ricordate che due anni fa pure c'è stato un incendio che è interessato un po' quella zona del santuario, certo non come quest'anno, apparentemente non ci sono stati danni direttamente alla struttura, al contorno e all'ambiente del santuario, però certamente è inevitabile, sappiamo che l'incendio non è soltanto il momento in cui ci sono le fiamme, viene rovinato proprio un ambiente, la sicurezza anche, quell'ambiente che è comunque rischioso per le pietre che possono cadere, per gli alberi che vengono a mancare, quindi è tutto il contorno di un monte sacro, del vingiolo che è pericolante, che diventa comunque fragile. Il fuoco viene certamente a ferire profondamente, anche se non direttamente nella struttura, però certamente viene ad essere ferito. Tutto un ambiente che sappiamo è di una grande meraviglia, quindi i danni certamente sono tanti, sono tantissimi, però il mio pensiero va veramente a chi ha subito veramente danni proprio nelle proprie abitazioni, ho sentito di qualche macchina, ho sentito anche di tante cose e quindi a partire dalla cosa più cara, dall'ambiente più caro, a tutti i praiesi, leggevo proprio da parte di tutti subito la preoccupazione verso il santuario, verso ciò che è di più profondamente caro alle persone, che è l'immagine cara della Madonna e quindi non nascondo che da parte mia e con me pienamente, da parte del Rettore, da parte di tanti volontari, ragazzi, il primo pensiero è stato salire sul santuario, questo affetto che ci lega tutti all'immagine cara della Madonna, pensare subito, immediatamente di custodire l'immagine e preservare da pericoli che ci potevano essere. Allora avete capito, almeno io tra le righe ho capito che la festa al 99% si farà, i danni per fortuna sono limitati al santuario e quindi il 15 agosto, manca meno di un mese, ancora la festa dovrebbe esserci, è anche un momento di comunione, di solidarietà, di unione tra tutti gli abitanti di Praia. Bene, questi sono gli aggiornamenti odierni, con questa bella intervista a Don Vrango Liporace, della Chiesa del Sacro Cuore a Praia, la situazione si va normalizzando, lo dicevo anche all'inizio di questo nostro momento e ripeto c'è qualche piccolo focolaio, ma nulla, nulla ingombronda a quello che è accaduto l'altra sera e l'altra notte nella bella cittadina calabrese a due passi da Lauria, a 20 minuti da Lauria. Allora ci aggiorniamo se ci sono novità nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per il momento grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da Pino Carlo Magno e arrivederci alla prossima occasione.